Avete visto questo video? Ero in vacanza, passate 19 giorni Perché pensavo che i miei genitori a tutti mi hanno mentito Pensavo che erano 7 giorni E invece non era Mi ha preso per il culo Adesso quando siamo tornati a casa Mi sono stancato di stare qui nella vacanza Ora sono qui a casa tutta mia Oggi dobbiamo fare Oggi sono stati tutti i video per questi messaggi di soglia Guardate questo Ecco guarda E con il messaggio di soglia Se potete vedere guarda Avete visto ragazzi? Quando io faccio i video Vi faccio una cosa più linda Sarà migliore di video questo Sarà migliore Già va bene Ora carica tutti quanti Saranno milioni Non guarda Decidere la mia decontizione Fatti bravi Ciao Ti vedo il video Ciao